La svolta tecnica in casa FC Di Giarre è arrivata alla fine della scorsa settimana. Dopo le dimissioni di Giovanni Tropea, tornato a far parte della dirigenza dell'FC Di Giarre, la temporanea guida tecnica affidata a Joseph Pennisi ha portato alla vittoria di Graniti e ai primi segnali di riscossa dopo un brutto inizio. Adesso tocca al nuovo tecnico Salvo Giordano, ex allenatore delle giovanili del Giarre 1946, prendere in mano le redini della squadra, a partire dall'impegno con il randazzo di domenica al regionale. ore 14.30. Ai nostri microfoni, mister Giordano e il presidente Sirigato fanno il punto della situazione, guardando al futuro con ottimismo. Come da comunicati, il fatto personale, per motivi organizzativi, non riuscivo più a conciliare il lavoro con il pomeriggio per allenare i giovani dell'under e quindi ho avuto questa opportunità, conoscevo già la maggior parte dei ragazzi che fanno parte dello spogliatoio attuale. Avendo allenato negli ultimi anni sempre in notturna, la squadra è un'ottima rosa, costruita bene da quest'estate, è partita col piede sbagliato, stiamo cercando di capire subito quali sono state le problematiche. Secondo me è una squadra che può fare bene, ma ancora non conosciamo bene tutte le altre realtà, quindi prima del giro di Boa cercheremo di capire dove possiamo arrivare. Sicuramente a partire da domenica bisogna lavorare e mettere mattoncino su mattoncino per recuperare anche tutto ciò che ha la capacità organizzativa e mentale anche dei ragazzi. La scelta su Salvo è scaturita anche dall'amicizia con molti dei ragazzi che l'hanno avuto come allenatori, da quello che ha fatto negli anni, lo conosciamo come un allenatore che gli piace un calcio spettacolare, già abbiamo visto dal primo allenamento quello che vuole dare, il cambio di modulo e quindi pensiamo di poter continuare il nostro progetto che è quello di raggiungere dei traguardi ambiziosi. Ho sempre detto che le partite non sono facili, sono delle squadre che da settimana a settimana muovono la classifica in un modo strano. Anche il Randazzo arriva da un momento di appannamento, però anche loro hanno voglia di rivalsa, ma noi contiamo di dare, innanzitutto di regalare un buon calcio e i risultati.